Parliamo adesso del rapporto di fratellanza fra la Corsica e la Sardegna. La Fondazione Maria Carta il 6 ottobre porterà Navigantes a Bonifacio. Vediamo il servizio di Valeria Ganatu. Centinaia di sardi portatori della cultura e delle tradizioni della nostra isola. È Navigantes la nave dell'identità, l'iniziativa promossa per la prima volta nell'ottobre dello scorso anno dalla Fondazione Maria Carta. Nel 2023 l'invasione pacifica aveva fatto tapa a Barcellona. Quest'anno, il prossimo 6 ottobre, si salpa verso l'isola gemella La Corsica. Ho visto subito l'interesso di questo concetto che consiste a fare venire qua la cultura a Bonifacio. E' una cosa molto molto importante da noi che pensiamo di sviluppare da poi anni e anni i contatti culturali, patrimoniali, linguistici con la Sardegna. L'obiettivo è anche quello di rafforzare il legame che unisce le due isole, portando le espressioni più autentiche del patrimonio etnomusicale e folcloristico della Sardegna. E' una cosa che portiamo via mare, attraverso il mare, la nostra cultura e la nostra identità. La portiamo questa volta nella nostra isola gemella, la nostra prima Europa e a 40 minuti di mare da noi. Siamo stati accolti in maniera straordinaria, hanno sposato il progetto. Il 6 ottobre sbarcheremo e invaderemo pacificamente Bonifacio. Saranno rappresentate le più belle espressioni della nostra cultura, i nostri costumi, i nostri suoni, i nostri canti. Credo che questo sia un progetto che crea ponti e abbatte quelle che sono anche le differenze culturali.